Il caldo e l'afa di questi giorni continua a registrare il pienone sulle spiagge del nostro paese. Sono davvero in tanti ovunque a godersi le ultime giornate di caldo sotto gli ombrelloni sia nelle acque del Casertano che nell'Adriatico. L'Alto Casertano infatti, ma non solo quest'anno, ha preso d'assalto le spiagge del Molise, ma dell'Adriatico in genere, sia per il collegamento, sia per l'ospitalità, ma soprattutto anche perché bisogna poi fare i conti con le disponibilità del portafoglio. La scelta da parte nostra di Campomarino, Lido, come sede per venire al mare, dipende anche dal fatto che i prezzi sono abbordabili. Basti pensare che una quincina di giorni sono sufficienti 1.200-1.300 euro. Da Campomarino è tutto Lorenzo Applauso per casertasera.it